Il Molise è la politica feudale, le elezioni del 4 marzo hanno tramortito i partiti tradizionali, questo ha prodotto una transumanza politica e un fuggi-fuggi per cercare di difendere coltroni. Regionali centro-sinistra ancora diviso, il Movimento 5 Stelle fuori la politica dagli enti, trattativa tra Pitti e Molise 2.0, si valuta la candidatura di Carlo Veneziale, Greco chiede che gli enti subregionali siano affidati a manager e figure di alta esperienza. Il governo impugna la legge di stabilità regionale, nuova bocciatura per frattura su proposta di Gentiloni impugnato, il documento approvato dal Consiglio di Palazzo d'Aimmo, dove prevede un supplemento di spesa per la sanità. Frana a Duronia, a rischio la conduttura di Molise, acqua e il sindaco teme che ceda anche il muretto della strada chiusa al transito. Una voragine di circa 5 metri si è aperta da una settimana allertata a Regione e Azienda, urgono interventi immediati. Judo, medaglie internazionali per i fratelli Centracchio, Maria e Luigi hanno portato a casa risultati prestigiosi nelle competizioni europee rispettivamente in Svizzera e Spagna, sono stati insegnati di un riconoscimento dal Comune di Sernia. Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale. Le elezioni del 4 marzo hanno emesso un verdetto, i partiti tradizionali sono usciti sconfitti e tramortiti. Tutto questo a pochi giorni dalla presentazione delle liste per le regionali ha prodotto un aumento smisurato della transumanza politica e il fuggi-fuggi per cercare di difendere qualche poltrona. Ascoltiamo l'editoriale del nostro direttore Emanuela Petescia. C'è una questione morale nella nostra Regione, sebbene molti facciano finta di non vederla. C'è un connubio di interessi personali e imprenditoriali che coinvolge, anzi travolge, tanto il centrosinistra quanto il centrodestra, colonizzando entrambi i poli e bloccando il confronto e la democrazia. Non c'è spazio per chi aspira a fare politica in modo limpido e sarà stato questo, alla fine, il motivo della rinuncia da parte del giudice Enzo Di Giacomo. Entrambi gli schieramenti sono occupati, di fatto, dalle stesse persone, dalle stesse facce, dalle stesse riserve di voti, che passano con disinvoltura da destra a sinistra e poi di nuovo da sinistra a destra, invadendo le caselle nevralgiche del potere politico e impedendo a chiunque che non appartenga alla casta di offrire un contributo lontano da conflitti di interesse. Una cupola politica, potremmo definirla, un potentato economico-affaristico di straordinaria influenza che, per restare a galla, si avvale di ogni genere di connivenze ad altissimi livelli, senza che per questo si sia mai sollevata una sola voce di protesta. E allora, grazie a questa cupola tentacolare che soffoca da almeno un decennio la vita politica della nostra regione, può accadere che si faccia ancora oggi il nome di frattura alla carica di presidente della regione. Nonostante il clamoroso fallimento del suo governo, nonostante il vergognoso processo di Bari, nonostante sia indagato per calunnia, nonostante la vicenda agghiacciante mai chiarita della villa di Termoli, nonostante la metropolitana leggera, nonostante le transazioni milionarie in materia di sanità privata, e nonostante il Consiglio di Stato abbia condannato la società Biocom, di cui Frattura era titolare unico, alla restituzione di 300.000 euro. In un qualsiasi altro posto del mondo, Paolo Frattura sarebbe sparito dalla vita politica prima delle urne. Invece in Molise una parte del PD continua stancamente e senza vergogna a riproporlo alla guida della regione, con una ostinazione che per molti rimane incomprensibile. Se non fosse che i vertici locali del PD possono giocarsi ormai quell'unico spazio, con Frattura appunto, sia per essere candidati sia per essere eletti, e non importa se sui banchi della minoranza. Dunque continuano a sbandierare il suo nome senza farsi scrupolo di prendere a pedate il buonsenso. Ma la questione morale non coinvolge, o meglio, non travolge il solo Frattura. Liste e candidati di appartenenza politica universale, come si diceva, migrano scientificamente di qua e di là da una coalizione all'altra, a seconda di dove soffì il vento, e impediscono l'avvicendamento, o meglio, per essere più chiari, si trasformano nella fantastica alternativa a loro stessi. Come se la politica molisana vivesse imprigionata in un film di cartoni animati, ci accingiamo ad assistere ai soliti comizi in cui si critica aspramente l'operato della regione, ossia l'operato di se stessi, per proporre la svolta del secolo, ossia di nuovo se stessi. Insomma, un sistema feudale che continua a soffocare ogni ricambio di classe dirigente, come se lo tsunami a 5 stelle non li avesse già asfaltati tutti, uno per uno, il 4 marzo scorso. Intanto in queste ore in corso, una riunione, un incontro tra PDEU e Molise 2.0 nella sede del PD a Campobasso e si sta valutando la proposta di sostituire la candidatura di Frattura con Carlo Veneziale, c'è ancora una spaccatura e una divisione dunque nel centro-sinistra. Il tempo è scaduto e al momento nessun accordo è stato raggiunto tra il PD e l'Ulivo 2.0. È stata una giornata frenetica di trattative telefoniche e riunioni tra Roma e il Molise. Lorenzo Guerini e Matteo Ricci da Via del Nazareno a Roma hanno provato in tutti i modi a ricucire gli strappi nel Partito Democratico, ma alla fine ogni tentativo è risultato vano. Paolo Frattura, dopo un lungo tira in molla e dopo aver offerto la vicepresidenza dell'Aggiunta regionale a Roberto Ruta, che ovviamente ha rifiutato, ha deciso di andare avanti con chi ci sta. Il senatore d'accanto suo, dopo aver atteso in vano il terzo nome per la candidatura unitaria alla presidenza della regione, ha chiamato a raccolta i suoi aspiranti consiglieri e ha avviato la procedura per la composizione delle liste. La trattativa tra il PD e Molise 2.0 potrebbe ancora riaprirsi nelle prossime ore, ma il finale appare già scritto. Nella notte è stato ipotizzato il passo indietro di Paolo Frattura, si dice rimasto senza liste, e la proposta di sostituirlo con l'assessore regionale Carlo Veneziale. Ora si sta ancora discutendo su tale ipotesi che però trova qualche ostilità in Molise 2.0 e in particolare in Liberi e Uguali. Dunque, a meno di sorprese dell'ultima ora, saranno cinque i candidati presidenti, ovvero Paolo Frattura per quel che resta del PD e del centro-sinistra, Roberto Ruta per Molise 2.0, sostenuto da sinistra italiana, socialisti in movimento, Italia dei valori, democratica, comunisti italiani, centro-democratico e Liberi e Uguali. Donato Doma per il centro-destra, sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia, Orgoglio Molise, Popolari per l'Italia, Movimento Animalista e altre liste civiche, Michele Marone, Energie per l'Italia, sostenuto da tre liste civiche, Andrea Greco, Movimento 5 Stelle, sostenuto dalla omonima lista. Secondo i ben informati, diversi candidati nelle liste di centro-destra sarebbero stati sostenitori di Paolo Frattura negli ultimi cinque anni, ma questo lo verificheremo all'atto della presentazione delle liste. Pino Libertucci, membro dell'Assemblea regionale del PD e referente della Federazione Medio Molise nella mozione Orlando, ha scritto a Matteo Orfini e Maurizio Martina per sottolineare, ha detto, la drammatica situazione del partito molisano. Ci troviamo di fronte a una netta spaccatura. Ha continuato con da un lato la segretaria regionale Fanelli e Frattura e dall'altro il senatore Ruta. Libertucci chiede che i due candidati ritirino la loro candidatura e che si assegni la delega per presentare il simbolo a un comitato rappresentativo delle tre mozioni. Si affidi la scelta di un nome alla segreteria nazionale del PD, ha detto Libertucci, da individuare tra le figure istituzionali del partito e delle amministrazioni di seguito elencate. Laura Venitelli, Antonio Battista e Lorenzo Coia. Laura Venitelli, che è presidente dell'Assemblea regionale del PD, Battista, presidente della provincia di Campobasso, Lorenzo Coia, di quella di Sernia e tutti del PD. Gli enti subregionali vengano affidati a manager e a figure di alta e comprovata competenza. E questa è la proposta di riforma avanzata dal Movimento 5 Stelle per sottrarre al controllo politico gli enti strumentali della regione molise. Ad avanzarle Andrea Greco, candidato designato alla presidenza per il Movimento 5 Stelle. sentiamo Pasquale Ribello. Fuori la politica dagli enti subregionali, gli enti strumentali della regione vengano affidati a manager di alta e comprovata professionalità. È questa la proposta avanzata da Andrea Greco, candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della regione molise nel corso della trasmissione televisiva Millibar. Quello degli enti subregionali è stato per anni un territorio di scorribande, razzie, una dependence delle istituzioni che ha consentito alla politica di collocare tra vertici e consigli di amministrazione una pletora di postulanti, trombati e solenni soloni rimasti senza scranno e senza sgabello in una o più tornate elettorali. Consulte, commissioni, consigli, istituti, consorzi, aziende, enti e chi più ne ha più ne metta in una catena di nomine per ogni tema dello scibile umano. Dallo sport alle case popolari, dagli studi storici alle bonifiche, dalla cultura all'agricoltura, dallo studio universitario alle espropriazioni, alle biblioteche, ai musei, agli archivi, alle fondazioni, all'informatica e alle comunità montane, un treno di nomine e strutture che a pronunciarle provocano un attacco d'asma mortale. La cosa più drammatica tuttavia è rappresentata dai risultati fallimentari che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. Un caso emblematico e che vale per tutti gli altri è quello di Moliseacqua e struttura commissariata, che è proprio il caso di dirlo, fa acqua da tutte le parti. Il tema è quindi serio e dovrà essere affrontato da chiunque andrà ad occupare la poltrona di presidente della regione. È intollerabile infatti continuare a mantenere in vita carrozzoni inutili ad appannaggio di amici, parenti, parenti degli amici e amici dei parenti. Indipendentemente da chi lo dica è ora di dire basta ad un sistema di lottizzazioni che nulla ha a che vedere col bene comune. Nuova bocciatura per Paolo Frattura, questa volta non si tratta di tribunali, elettori o pubblica opinione. È il governo Gentiloni che ha impugnato la legge di stabilità approvata dal Consiglio regionale lo scorso 30 gennaio, lì dove prevede un supplemento di spesa per la sanità. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Nuova bocciatura per Frattura, questa volta il cartellino rosso arriva da Roma dove il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato di impugnare la legge di stabilità regionale 2018 del Molise in quanto dispone il rifinanziamento di un livello di assistenza sanitaria supplementare, ponendosi in contrasto con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario, in violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 117 della Costituzione bocciata anche un'altra norma della legge di stabilità regionale riguardante i beni demaniali barittimi. La norma invade le competenze statali concernenti gli aspetti dominicali di tali beni e viola sempre l'articolo 117 della Costituzione. A parte le osservazioni generiche che sorgono spontanee, prima sui rapporti tra Governo regionale del Molise e Governo centrale e poi sulle qualità tecnico-professionali dello staff di consulenti, dirigenti e collaboratori vari che ruota attorno a Frattura e alla governance della sanità, la prima domanda a cui Frattura dovrebbe rispondere è un'altra, cosa e chi si nasconde dietro il rifinanziamento dell'assistenza sanitaria supplementare? Frattura è tenuto a chiarirlo non solo a Gentiloni ma anche a tutti i molisani, visto che ci avviciniamo al 22 aprile, visto che lui ha dichiarato di volersi ripresentare dopo aver messo a posto i conti della Regione. E se i conti sono quelli bocciati ieri dal Governo centrale, ecco che siamo di fronte all'ennesima frottola raccontata dal Governatore, un Governatore che sulla sanità si deve fare bene i conti, anche perché da Roma arriva un'altra brutta notizia, quella che prevede il taglio del 50% sui rimborsi dei ricoveri fuori regione a partire dal 2014. Cosa vuol dire? Semplicissimo, vuol dire che il Molise, in quanto regione con una forte mobilità sanitaria in ingresso verso Neromed e Cattolica, rischia di non poter più quadrare i suoi conti perché non le verrebbe rimborsata tutta la spesa fatta per curare nelle due strutture i pazienti provenienti da fuori regione. Lo sta decidendo la Converenza Stato-Regioni, per ora si tratta solo di una bozza di poche pagine, ma dai contenuti esplosivi. Un testo che, se approvato, assesserebbe un colpo gravissimo al diritto alla salute di migliaia di italiani e toglierebbe a uomini e donne del centro-sud la possibilità di curarsi nei più importanti ospedali del nord o, nel caso specifico, del Molise. Molise è ancora stretto nella morsa del gelo, temperature sotto lo zero e anche questa mattina ha nevicato senza però creare degli accumuli particolari se non in montagna. Intanto il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, ha sospeso per oggi le attività didattiche basandosi su quelli che erano i bollettini meteo ieri e le previsioni della protezione civile. A Duronia una frana sta creando problemi sulla strada Santogliani, strada comunale che è stata chiusa e il sindaco è preoccupato in quanto a pochissimi metri dal muretto dove c'è la frana c'è un'importante conduttura di Molise e Acque che se danneggiata, ha detto Michelino D'Amico, creerebbe problemi a una vasta area regionale. Sentiamo e vediamo le immagini. Frane che avanzano, strade dissestate, chiuse, paesi a rischio, isolamento, cittadini che protestano come a Bagnoli del Trigno ultimamente, ancora problemi a viadotti come a quello gamberale sulla Trignina, denunciate ormai da tempo. Le emergenze in Molise anche su questi fronti non mancano e si chiedono interventi risolutivi non più tampone. Quando nevica e soprattutto quando piove la situazione è peggiora ed emergono ancora più nette le criticità, come quella a Duronia, sulla strada Santogliani, dove insiste una frana ad almeno una settimana, un fronte di circa 25 metri di lunghezza, come si evince da queste foto inviate dal sindaco Michelino D'Amico. Ma nel video si vede ancora meglio il quadro della drammatica situazione. La strada comunale spaccata, devastata, una vera e propria voragine profonda, circa 5 metri. Problemi enormi per chi vive nella borgata, cittadini e imprenditori. Ci sono quattro aziende agricole, percorsi alternativi a Civitanova del Sannio e Frosolone, con cui si allunga di parecchio il percorso. Il sindaco ha disposto la chiusura della strada, troppo pericoloso transitarvi. Sono stati chiamati i tecnici della regione per i sopralluoghi, l'interessamento anche di quelli della forestale. La richiesta è di un intervento di somma urgenza dalla struttura tecnica comunale, la stima e di lavori per almeno 250 mila euro. La situazione è tenuta costantemente sotto controllo dal sindaco D'Amico, che è molto preoccupato, anche e soprattutto per la presenza, a pochissimi metri dalla frana, della conduttura di Moliseacqua, struttura allertata e anch'essa in stretto contatto con il comune di Duronia. Si tratta di una conduttura importante, Ramos Sinistro ha detto il primo cittadino, una situazione che non mi fa dormire bene, poiché se il movimento franoso avanza ancora, il rischio concreto che la conduttura si danneggi c'è e questo creerebbe un problema troppo grande che interesserebbe non solo Duronia, ma una vasta area della regione. La conduttura è infatti vicinissima al muro che si vede la speranza e quindi che non venga giù. Il Movimento 5 Stelle di Termoli ha ribadito il proprio no alla realizzazione del tunnel e alla struttura multipiano in piazza Sant'Antonio. L'inaspettato provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, privo di ogni illegittimazione politica, hanno detto i pentastellati, sta permettendo all'amministrazione sbrocca di proseguire con il progetto. Siamo da sempre contrari a questa svendita del bene pubblico a vantaggio del privato. I 5 Stelle hanno annunciato di stare lavorando per poter presto presentare un ricorso al Tar, facendosi portavoce, hanno spiegato degli interessi diffusi di tutti i termolesi che si sono visti negare il diritto di esprimersi democraticamente circa la trasformazione irreversibile del proprio centro cittadino. Per aderire all'azione hanno fatto sapere si può depositare un contributo anche solo di 2 euro sulla postpay del Movimento oppure lasciando un'offerta ai banchetti del sabato in via Adriatico all'infopoint.termoli. Ci spostiamo adesso al Comune di Campobasso dove domani tornerà in riunione il Consiglio per l'approvazione del bilancio di previsione 2018. In primo piano le risorse destinate alle opere pubbliche e il buco di 14 milioni di euro frutto in parte della mancata riscossione dei tributi locali. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Riprenderà domani mattina il dibattito sul bilancio di previsione 2018 del Comune di Campobasso. La ripresa dei lavori era stata decisa dal Presidente del Consiglio dopo l'aggiornamento di lunedì scorso per la mancanza del numero legale. In aula dunque l'esame del documento contabile che tra le priorità ha individuato le opere pubbliche con particolare riferimento al finanziamento degli interventi sull'edilizia scolastica. Il problema della sicurezza delle scuole a Campobasso, come è noto, ha assunto tutte le caratteristiche dell'emergenza e l'amministrazione Battista già all'indomani del suo insediamento si era trovata a dover fronteggiare la chiusura di due edifici scolastici, quella di Via Crispi e quella di Via D'Amato. In seguito erano emerse le criticità in altre scuole che il Sindaco Battista e la sua giunta stanno comunque affrontando. E non a caso nel bilancio di previsione 2018 l'amministrazione ha destinato proprio alla sicurezza degli edifici scolastici una grossa fetta delle risorse a disposizione. Ma a preoccupare gli inquilini di Palazzo San Giorgio e soprattutto il buco di 14 milioni di euro frutto in parte della mancata riscossione dei tributi ma anche dell'accensione da parte dell'amministrazione dei mutui proprio per finanziare gli interventi sull'edilizia scolastica. Intanto l'assessore al bilancio Massimo Sabusco nella relazione eletta all'Aula ha annunciato che per quanto riguarda i tributi locali non ci saranno aumenti rispetto al 2017. La pressione fiscale insomma non aumenterà nonostante l'avvio del servizio di raccolta differenziata il cui costo è stato spalmato in maniera tale da non gravare sui contribuenti di Campobasso. Rassicurazioni che però non convincono l'opposizione pronta a dare battaglie in Aula. Ha vissuto per almeno 15 anni in una baracca, in un container, nella zona dei centri commerciali a Campobasso dove vendeva oggetti realizzati con l'arte del riciclo ma anche vasi e anfori. Antonio Della Porta era un imprenditore finito in disgrazia dopo un fallimento durato 27 anni. Della sua condizione e situazione da lui spesso denunciata ce ne siamo occupati anche noi oltre alla stampa nazionale. Ultimamente ha accusato malori e dolori. L'avvocato Pio Maurizio si è interessato della situazione. Ha chiamato il 118 che nei giorni scorsi ha raccontato lo stesso legale in un post su Facebook. Intervenuto una prima volta avrebbe lasciato sul tavolo il referto dicendo che trattandosi di una persona è stato di abbandono. La questione competeva ai servizi sociali. Pio Maurizio ha quindi allertato il 112 ai servizi sociali denunciando cosa era accaduto e parlando di omissione di soccorso. Il 118 è stato chiamato di nuovo. Antonio Della Porta, 68 anni, stavolta, raccontato ancora Maurizio, è stato visitato e subito portato in ospedale a Cardarelli dove gli hanno diagnosticato valori sballati e una polmonite. È stato ricoverato ma ieri è deceduto vista alla sua condizione. Oggi pomeriggio alle 16 funerali a San Giacomo degli Schiavoni. Andrò fino in fondo in questa storia, ha detto l'avvocato Pio Maurizio. Darò voce ad Antonio e denuncerò in ogni luogo ciò che è accaduto. I genitori di due bambini sono stati denunciati dai carabinieri di Santa Croce di Magliano per inosservanza degli obblighi di istruzione ai minori. Il provvedimento è stato emesso nel corso di una serie di controlli finalizzati al contrasto della dispersione scolastica. I carabinieri, dopo aver eseguito verifiche nelle scuole primarie e secondarie della zona, hanno individuato una coppia del posto che senza alcun motivo non mandava i figli a scuola. Oltre alla denuncia è scattata anche la segnalazione al Tribunale dei Minorenni di Campobasso. Ricorre oggi il 130esimo anniversario della prima apparizione della Madonna alla Dolorata a Castelpetroso. Come ogni anno al santuario sono state organizzate varie iniziative, abbiamo seguito l'esibizione di un gruppo di cantori provenienti dalla Basilicata che ha rappresentato la Via Matris, il servizio di Sergio Di Vincenzo. In tanti oggi si sono dati appuntamento al santuario di Castelpetroso per ricordare le prime apparizioni. Era il 22 marzo del 1888 quando Bibiana, mentre stava cercando una pecorella che si era smarrita, fu attratta da una luce in località accesa tra santi. Vide la Vergine con le braccia aperte e lo sguardo rivolto al cielo, inginocchiata davanti al corpo di Gesù. Successivamente apparve anche alla sua amica Serafina e dopo qualche giorno anche al Vescovo Francesco Macarone Palmieri. Quest'anno la ricorrenza è stata particolarmente significativa per diverse ragioni. Certamente i 130 anni dell'apparizione della dolorata quest'anno hanno non una ma due particolarità. Innanzitutto quella della data, e cioè ci troviamo il 22 marzo come ogni anno naturalmente, però quest'anno capita di giovedì di passione esattamente come 130 anni fa. Cioè il giorno esatto dell'apparizione di Maria qui a Castelpetroso era proprio un giovedì di passione. Sapete che la prima apparizione fu quella e poi la seconda, importante almeno quanto la prima, fu la domenica di Pasqua, primo aprile, allora come oggi. L'altra particolarità è che abbiamo avuto la gioia di poter ospitare questi cantori della Via Matris secondo la tradizione sant'arcangiolese della Basilicata. Le celebrazioni dell'anniversario dell'apparizione sono state dunque precedute dalla rappresentazione della Via Matris, il cammino dell'addolorata verso il Calvario. È stata curata da una rappresentanza dei cantori di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. Ai presenti hanno regalato momenti di forte suggestione. È un canto lunghissimo, è molto antico e non era prima strutturato con una base musicale sotto, ma era un canto, come si usava a dire da noi, ad aria, cioè libero nell'interpretazione. E quindi l'abbiamo un pochettino così adattato a quelle che sono le esigenze musicali del tempo, della metrica e diciamo che siamo riusciti a ottenere un buon risultato per quanto riguarda questo canto, che poi non è un canto, questo è il pianto dell'addolorata. Quindi è un canto molto, diciamo che è pieno di dolore, di un canto molto sacrificato proprio anche nell'interpretazione. Quindi è più un pianto che un canto. Presentata a Termoli la rivista Meteora, a cura dell'Associazione FIDAPA, ce ne parla Fabrizio Acchionero. Un'associazione è punto di riferimento per l'intero territorio, è un impegno gratuito e condiviso per stimolare il dibattito su temi di attualità e creare occasioni di incontro a livello comunitario, favorendo buone pratiche di promozione sociale e culturale. Da anni la FIDAPA promuove numerose iniziative. Una pubblicazione Meteora, ideata dalla socia fondatrice Vilma Costantini, spicca in termini di qualità di contenuti e attività associative. Diretta da Fernanda Pugliese, è stata presentata alla sede di Termoli dell'Università del Molise. Meteora nasce come una rivista al femminile, volute da donne impegnate della nostra associazione, partita da donne che hanno messo le loro idee, le loro professionalità per parlare di altre donne. Nasce qui una rivista importante che ha avuto una risonanza nazionale perché ha sviluppato tutte le tematiche che negli anni la nostra associazione ha voluto portare avanti. Un'occasione per fare il punto sulle iniziative, promuovere le attività della FIDAPA e raccogliere nuove adesioni tra tutte le donne che vogliono condividere i principi associativi. All'incontro sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, Rosa Vulpio, presidente del distretto sud-est, Angelo Presenza, docente di management del turismo all'Università del Molise, Stefania Massucci, referente on the road, e Fiorella Nibali, referente nazionale dell'associazione. A tutti i presenti è stata donata una copia di Meteora. Meteora raccoglie le notizie dell'associazione, ma il particolare è che in ogni numero c'è l'approfondimento di un argomento. L'argomento di quest'anno è la Carta dei diritti della bambina e fra i relatori avremo proprio la rappresentante nazionale, Fiorella Nibali, che è la referente della Carta dei diritti della bambina. La nostra missione in qualità di movimento di opinione è proprio quello di muovere le idee, di sollecitare dibattiti, di sperimentare nuove modalità di fare creatività femminile. E quindi anche quest'anno il nostro tema nazionale è sulla creatività femminile. Oggi siamo qui a Termoli per presentare la Carta dei diritti della bambina, che è una modalità per arrivare prima e meglio con scuola e noi stessi in famiglia a superare gli stereotipi di genere. E tutto, termina qui il nostro TG delle 14. Dopo la sigla le previsioni meteo, poi la linea ai colleghi dello sport. Noi ci rivediamo intorno alle 15 per il TG Flash. Buon pomeriggio.